Gaetano Scirea è uno dei più grandi campioni in assoluto del calcio che io ricordi. Nonostante io da avversario, in quanto tifoso di un'altra squadra, non posso che rispettare questo grande uomo che è stato e che ci ha lasciato davvero un ricordo indelebile per la sua serietà. Diciamo che non era certamente un esibizionista come tanti calciatori sono. L'ho conosciuto negli anni 70-80, grande, peccato quella morte così brutta e ha lasciato un vuoto a Torino, non è più quel calcio. Trent'anni, ricordo la notizia che venne data la domenica sportiva, all'epoca non c'erano social e mezzi di comunicazione così progrediti, e quindi un ricordo davvero malinconico. Era una brava persona per il ricordo che ha lasciato. Da quel poco che ricordo, anche perché non sono juventina, quindi è un po' difficile una persona corretta, educata, a modo come dovrebbero essere tutti nel mondo del calcio. Purtroppo persone così, non è che ce ne sono tante, però ho un bellissimo ricordo di questo giocatore. La signorilità in campo non faceva quei falli che fanno oggi quei difensori, è andata così purtroppo. Grande Juve, grande Gaetano. Scirea, devo dire, da napoletano sempre stimato, perché rappresenta un uomo, un simbolo, come di uomo, soprattutto un uomo squadra e un uomo fuori dal campo. Se erano i nostri giorni, sarebbe stato più uno d'esempio. Se uno è bravo in campo, è bravo anche nella vita, insomma. A me ha sempre dato un'immagine positiva, per quello poco che ho potuto vedere, conoscerlo. Gaetano Scirea era l'esempio di una personalità da uomo, di una serietà, che tanti oggi dovrebbero imparare da lui, tanti giovani calciatori dovrebbero imparare da lui. Ha lasciato un grande vuoto, perché sarebbe ancora servito nel mondo del calcio. Le persone serie, intelligenti e professionali come Gaetano Scirea dovrebbero vivere a lungo. Era un, come posso dire, un signore. Come persona è eccezionale. Però tanti non lo seguono quel messaggio, non lo sentono quel messaggio, quindi speriamo che qualcuno prima o poi si informi chi era Gaetano Scirea. Ha lasciato un bel messaggio a tutti i sportivi, in genere, in generale, quello che sia. Noi lo ricordiamo anche da Napoletano, devo dire. Però un bacio, Gaetano, che ci osserva dall'alto.